Il termine ultimo per la riscossione dei diritti di motorizzazione che vede Unicredit come cassiere scadrà domani, una corsa contro il tempo che sta mettendo in crisi l'intero comparto in un periodo dell'anno intenso per volume di nuove immatricolazioni, con autoscuole e studi di consulenza automobilistica che si trovano costretti ad anticipare i pagamenti in previsione dell'attivazione del nuovo servizio, demandato il Ministero dei Trasporti, i cui tempi però non sono ancora stabiliti. La regione siciliana rischia di perdere così introiti per circa 40 milioni di euro annui, venendo meno di fatto la titolarità della riscossione, nonché di subire interventi dell'ANAC che possano dichiarare l'irregolarità del trasferimento del servizio. Caos alimentato anche dal poco preavviso, la maggior parte delle imprese non riuscirà ad adeguarsi in tempo da un punto di vista tecnico per l'aggiornamento dei sistemi informatici con quelli del MIT e inoltre in questo vuoto normativo c'è l'alta probabilità che seppur autorizzate dalle regioni vengano dichiarate nulle le operazioni effettuate perché intestate alle imprese piuttosto che all'utente privato così come previsto sinora. Le associazioni di categoria chiedono una proroga almeno di sei mesi.